Castellamonte Castellamonte sarà il primo comune 6 maggio ad organizzare Florarte. Cosa si può trovare in quella giornata? Certamente una meravigliosa cornice di fiori, siamo alla quarta edizione quindi quest'anno si chiamerà Florarte come ha detto lei prima. Siamo orgogliosi di aver fatto questa sinergia tra comuni e abbiamo portato avanti tutti insieme questo bellissimo progetto di cui speriamo che vada avanti anche negli anni futuri. È la prima volta che i quattro comuni riescono a mettersi d'accordo per organizzare un evento sotto lo stesso cappello? Sì, è la prima volta e speriamo che continui questa prima volta, quindi questa sinergia che abbiamo restaurato speriamo che abbiamo altri comuni che possano aggiungersi anche a questa collaborazione che abbiamo già raggiunto quest'anno. Oltre ai fiori cosa si potrà trovare? Ecco ci saranno delle sorprese come i Vespisti che scoreranno per le vie del nostro concentrico, poi ci saranno le Magiorette di Ozzegna e poi ci sarà la bellissima sfilata di moda organizzata dai commercianti. Quindi sarà una bellissima giornata sicuramente, quindi intervenite numerosi, vi aspettiamo. Nasce una sinergia tra i quattro comuni del Canavese per organizzare Florarte? Si è nata una sinergia, in alcuni mesi a questa parte ci stiamo incontrando con l'assessore di Castellamonte, Rivarolo e Fabria per mettere insieme un certo numero di manifestazioni e non solo. Stiamo lavorando su anche un settore più commerciale e turistico per il Canavese per promuovere il nostro territorio perché sia un evento unico e riconosciuto in tutta la nostra provincia di Torino ma anche oltre. Perché gli eventi che si organizzano non bisogna più avere il campanellismo del territorio ma bisogna portarli molto più avanti per portare la gente a far conoscere il nostro Canavese. Finora se ne era sempre parlato ma nessuno l'ha praticato, con Teodoro, Leone e l'assessore di Fabria abbiamo portato avanti qualcosa che da anni ci si parlava e adesso siamo arrivati agli primi passi. Quindi finalmente non ci saranno più eventi accavallati su comuni di Mitrofi? Questo è l'inizio, speriamo che prosegua così con questi quattro comuni, adesso ci sono altri comuni che vogliono unirsi su questo, chiamiamolo, asse turistico-commerciale del Canavese, i primi quattro comuni che hanno aderito. Man mano che si va avanti si sta già parlando anche con altri comuni di aderire per le iniziative. Le settimane sono 52 durante l'anno, si può trovare 52 manifestazioni diverse su tutti i comuni ma che abbiano la sinergia, e lo scopo unico di dire che il Canavese c'è, che esiste, è un territorio vasto ma si può conoscere in tutto il mondo. A Corniai Florarte si terrà il 13 maggio, qual è il programma? Cosa si può trovare? Allora il 13 maggio possiamo trovare gli artisti, abbiamo due compagnie di pittori che sono artisti da strada, madonnari o altri eventi che lavorano sulla strada, e poi abbiamo il Carlin Bergoglio che è il gruppo di artisti locali che avranno la loro location situata nel centro storico, dove potranno usufruire di spazi non indifferenti per portare a vedere delle loro opere. Poi avremo in contramutanza il torneo di maggio dove ci saranno un mercatino medievale sempre inerente al torneo di maggio, con degli eventi nel centro storico sempre che riporterà questa parte più verso la parte della storia. La parte più di fiori con composizioni e vetrine varie fatti dagli operatori del settore, che quest'anno noi dovremmo arrivare a quota 10 vivai su Corniai ed è un evento grande perché avremo Corniai a ricoperta di fiori. Noi come ai confronti di altri comuni abbiamo già l'esperienza di più anni di aver praticato questa manifestazione, diciamo a tutti i nostri operatori, quelli che vogliono partecipare, di fare in fretta perché i posti sono limitati, perché noi abbiamo il nostro territorio suddiviso su tante strisce di via dove ogni strisce sarà depositato un produttore e un vivaio per fare la manifestazione. Grazie a tutti. Grazie.